E bentornati nel nuovo video dedicato a Red Dead Redemption 2. Allora, dovremo tornare nell'accampamento. Prima di tornare nell'accampamento, però facciamoci un giro qui in città. Cavallo mio, è qui. Allora, togliamo. Accarezza. Vieni. Vieni in su. Allora, non mi serve. Andiamo qua se abbiamo qualche. Grazie. 25 dollari. Una donna. 25 dollari, ricompensa. Wanted alive. Oh, che pizza, però. Vai. Allora, invece di tornare nell'accampamento, allora andiamo qui. Bel viaggio. Ed qualche soldo tolò dare puro, però non ho capito chi sei. Andiamo. Ah, è qua. Ah, è qua. Can't we be friends? Can't we be friends? Sure. Posso? Ok, solo, rapidamente. That felt good. È bella bella a volte. Quando stavamo giocati in la guerra. Hai un'occhiata, mister. Come hai visto un'occhiata. che mi sta seguendo ok seguiamo a cavallo siamo salti delle stalle a qualche cavallo un po più veloce rispetto a questo acquista cavalli abbiamo un po che cosa abbiamo abbiamo questo qui velocità 4 accelerazione 3 questo cavallo è veloce così tanto io non me lo posso permettere sto cavallo ho 278 dollari che costa vabbè provviste non mi interessano allora ho ruttilla abbiamo questo che fa schifo questo è abbastanza vuoto questo è il tuo cavallo attivo ok recupera migliora come lo posso migliorare equipaggiamento sella e migliorare la sella cosa fa e siamo tutto uguale non lo so chiudi bisacca standard ah l'ho comprata vabbè staff ah ok vedi aspetta un attimo bisaccio no questa non dice nulla però le staff ma vedi meno 5 meno 10 per cento di consumo meno 15 per cento meno 20 per cento meno 25 per cento meno 30 meno 35 per cento di consumo ok e allora comprare ammazza quante stan meno 50 abbiamo questa staffe coperte quindi questa qua è la migliore la compriamo corni che sono uh carino però non mi soporta nulla sotto sella ah non mi interessa coperta da campo ah questa vabbè ci ho buttato un po' di saldi aspetto criniera io credo che il tuo bambino aprecia io credo che il tuo bambino sono convenzato che il bambino amano va bene stiamo con rutella perchè questo non mi sembra rutella oddio si non resta rutella scendi si è rutella perfetto andiamo a fare quello che dobbiamo fare che cosa qua ok Ah, ce la vede con me? Ce la vede adesso? Ah, ce la vede adesso? Ah, ce la vede è successo qua? Vabbè. Facciamo un po' di pulizia. Ah, ce la vede è successo qua? C'è stato da poter recuperare su questo tavolo? Un sigaro, no? Non posso prenderlo. C'era una mela che ho potuto prendere. Prendi la mela per il cavallo che ci può tornare utile. Poi qui c'è un cadavere. Eccolo qui. C'è un cadavere. F1. Allora, progressi livello 6. Sottopeso sono. Ah, devo mangiare. C'è un cadavere. Olio per armi. L'azione. E niente c'è nient'altro. C'è nulla. Prendi lo possiamo prendere pure? No. Ok. Ok. Andiamo. Rutil. Ok. 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 e lo passai da cabra e lo passai da cabra la gente non sta bene non sta bene però non sta bene ah si è andato quello ci sono dollari abbiamo recuperato i soldi che abbiamo usato sul cavallo paula vediamo cosa c'è medicina una galletta cartucce altre cartucce e abbiamo finito ok per pulire le armi come dovevo fare sai che non mi ricordo ah ci sono pure proiettori differenti ok fai b un attimo allora voglio operarmi mi ricordo come si puliva l'arma vabbè frutilla possiamo continuare a proseguire ok ok che che tu scusa che caratterino sai cosa però? aspetta un attimo ok che è? c'è qualcuno che sta sparando ah per una sfida stai perdendo la concentracion let me go let me go you stupid son of a bitch you brought this off yourself shut up è troppa gente che sta in giro ora però siamo soldi ma sei un pazzo andiamo ad aiutare la tizia allora come on ecco secondo però che se ne va ecco 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 Oh fermati Voglio parlare Vai a far del bene Beh se è caduta da qua mi sa che ha fatto una brutta fine Vabbè Proseguiamo il nostro viaggio Roga Non posso calmarlo il cavallo Io vorrei sapere questo qua dove è uscito sotto il ponte è uscito Ok Lascio il fucile da canne mozzo e prendere il revolver No io il revolver non lo voglio prendere Lasciamo così Ok proseguiamo C'è un cavallo con una sella Ah no è bellissimo Andiamoci Fucile sempre Aspetto Ah ok ci siamo già 200 dollari d'italia Male 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 E' forse qua sopra Vediamo Vediamo Eh no la taglia non mi interessa Negoziando Negoziando Io posso Questi non li posso vendere Allora niente Arrivederci Allora Non posso uscire E allora andiamo Al dietro Dobbiamo fare qualche inseguimento Dobbiamo fare qualche inseguimento Uh Piano No 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 Hey Sì Come on You wanna go the other way Come on Watch yourself dai non è possibile gli ho sperato in faccia gli ho sparato questa proprio non mi convince proprio questa morte meno 11 dollari dove mangiare comunque perché abbiamo poche vita farò un po' di carne in scatola scendi giù mi serve l'arma e dai un po' di carne ahia piano ok pensavo potessi essere d'aiuto ti faccio farvi andare con i pelli che tipo di uomo sei tu? Juni, fatta e piccola tutti i uomini sono utili tu sei un pezzo di uomo ora, venite rosa in hell rosa con i resti non mi mangiare ah devo prendere il cappello allora caricala il cavallo recuperiamo il mio cappello prendi il caffè macinato, vai no, sbagliato, sbagliato no, sbagliato come on come on settle in you got a ride ahead of you arma pronta andiamo oh dear what came over me did I just do those things it's a horrible blur but I see blood there's blood everywhere it won't come out cavalluccio pulisci arriviamo devi stare zitta ah viaggio in silenzio you're such a strong man so tough and burly I hate you you sad sack of shit I wish I'd cut your belly open and show that's more like it hush that's more like it I wish I'd cut your belly open e ancora ce ne vuole aumentiamo il passo oh shit 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo nell'accampamento, riposiamo e dormiamo. E mangiamo anche. Dov'è il mouse? Arma pronta. Ah, è giorno. E che mi riposo allora? Allora. Allora. Porca miseria. Ah, ok. Ok. Andiamo. Allora. 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 Lo ed. Allora. 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 Ah. Sì, sì, sì. Oh, 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 oh. Vabbè basta mi hai stancato Ok, beh, grazie signor Morgan Sei benvenuto Grazie di nuovo per la danza, signora Gasker Qualcuno, sei migliore di quello che pensavo Oh, provocare di prenderlo come un complimento Ok, beh, dovrei andare a andare Andare a dormire? Vino al mattino E finiamo qui questo video Nel prossimo video vediamo un attimino se abbiamo qualche missione da fare Al prossimo video